È una Vilma Goik senza freni quella appena rientrata nella casa del GF Bip dopo il Covid. L'ex di Edoardo Vianello ha letteralmente perso la testa per Daniele Dal Moro e non ne fa un segreto. La sua gelosia l'ha portata anche a insultare chiunque abbia provato ad avvicinarsi all'ex di Uomini Donne. GF Bip, Nicolin Corbaia insultata da Patrizia e Vilma, è brutta e beve troppo. Interviene Clizia, questo è Bullismo, GF Bip, Vilma Goik Shock, Daniele Mi Desidera, la cantante, 77enne, si è confidata con Patrizia Rossetti e Sara Altobello raccontando di sentire che quel feeling instaurato con il coinquilino del grande fratello Bip, di 45 anni più giovane di lei, sia in qualche modo corrisposto. Noi siamo uguali, abbiamo le stesse paure. Chi se ne frega della differenza d'età. E continua, lui può fare quello che vuole, ma io so, io so. Lui mi desidera, ne è certa e lo ripete più volte Vilma. Patrizia prova a placarla, sai che è amore? Ma il cuore non sente ragione e la Goik è consapevolmente felice, sì, io sì.